Naturalmente in questi eventi bisogna tenere anche i prezzi un po' abbordabili con la crisi che c'è stata ma quello che è importante ci sono dei numeri eccezionali per la conoscenza del nostro territorio Gli eventi sportivi come strumento di rilancio per il turismo grazie al decreto riaperture del governo e alla possibilità di tornare a praticare gli sport di squadra e di contatto riparte anche affanno la macchina organizzativa diversi infatti i tornei e le iniziative in programma che porteranno in città centinaia di persone Bisogna ringraziare l'amministrazione comunale che è riuscita a portarci questi grossi eventi tipo la pallavolo, tipo il paracadutismo, tipo il canottaggio che a Fano non ce l'avevamo Questi giorni ci sarà anche la super marathon, poi avremo un evento al tiro a volo col tiro a volo, poi un altro evento importante con l'Inter, l'Inter Club che sta organizzando un camp qui a Fano anche questo già abbiamo delle pronotazioni persino dalla Sardegna hanno chiamato di questo evento Per quanto riguarda l'Inter in particolare visto che è una novità per la nostra città di che cosa si tratta? Sì, ci saranno degli allenatori che ai ragazzi, mi sembra il massimo dell'età è 13 anni insegneranno le tecniche e un qualcosa di più anche l'educazione di stare in campo perché in questo momento ne abbiamo bisogno, ma non solo questo io dico lo sport è anche una scuola di educazione e di comportamento E c'è un nuovo slogan che lancerà le tante iniziative ed è vacanza di gusto una frase spiega Cecchini che ho lanciato anche alla Federa Berghi di Roma e che riesce a racchiudere tutte le nostre peculiarità Dalla degustazione dei nostri piatti tipici al bel vedere, l'arte, la cultura, allo star bene io parlo sempre da Gabice fino ai confini di Senigallia qualcuno dice che è un diamante incastonato in qualcosa di bello